Nel video di oggi, vi sveleremo cosa è successo tra Maria De Filippi e Camilla, figlia di Maurizio Costanzo. Prima di continuare, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le ultime news. Maria De Filippi ha organizzato una serata speciale in onore di Maurizio Costanzo al Teatro Parioli di Roma, ora rinominato Teatro Parioli Costanzo. Durante l'evento, vari personaggi dello spettacolo, come Renzo Arbore, Mara Venier, Carlo Verdone, e Paolo Bonolis, hanno reso omaggio a Costanzo. Un momento particolarmente commovente è stato quando Maria ha ricevuto un mazzo di fiori da Fabio Fazio. Vedendo Camilla emozionata, Fazio ha deciso di donare i fiori a lei. La serata ha visto la partecipazione anche di Saverio e Gabriele, altri figli di Costanzo. L'intitolazione del teatro e i ricordi condivisi hanno creato un'atmosfera di grande affetto e stima per Costanzo. Maria De Filippi ha dimostrato il suo grande cuore, offrendo un tributo personale e significativo. Cosa ne pensate del gesto di Maria De Filippi? Faccelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video.